I parchi nazionali ebruzzesi sono protagonisti del volume Belli di Natura, la guida sui parchi nazionali d'Italia che il Touring Club sta inviando in questi giorni ai suoi 280.000 soci all'interno del bagaglio di viaggio 2018. Alle aree protette della nostra regione sono dedicate le 40 pagine centrali del volume in cui viene illustrata l'offerta turistica per una vacanza che può essere sia slow che attiva, a contatto con la natura e per tutta la famiglia. I itinerari escursionistici su sentieri panoramici, nei boschi o agli incantevoli borghi sono descritti e cartografati per conoscere così e vivere i parchi con tutte le informazioni utili, dalla sosta con il camper alle attività all'aria aperta.